Un cordiale saluto a tutti voi. Siamo chiamati a vivere un anno speciale, un anno santo, l'anno della misericordia. Sembra paradossale, in questo contesto in cui stiamo vivendo, proporre un anno che parta da atteggiamenti di perdono, di misericordia rispetto alla situazione dove stiamo vivendo dei conflitti, stiamo vivendo degli atti di terrorismo, di guerra e la Chiesa dice in quest'anno partiamo dalla consapevolezza di una misericordia che abbiamo ricevuto da Dio, perché tutti noi dobbiamo riconoscere che la nostra vita spesso scorre su delle attenzioni che sono alle nostre persone, alle persone a noi care e Dio viene messo in secondo piano rispetto a tutti i nostri problemi che sono pure importanti. Però tutti noi dobbiamo riconoscere di aver commesso degli errori più o meno gravi e di aver commesso anche nei confronti dei fratelli di mancanze di ingiustizia, di solidarietà. E rispetto a questi gravi che la Chiesa Cattolica chiama peccati, noi siamo stati perdonati, cioè Dio ci perdona e se noi siamo stati perdonati siamo chiamati ad offrire questo stesso perdono, questa stessa misericordia ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Allora io invito tutti voi in questo anno di grazia, in questo anno di misericordia a partire sempre nei rapporti personali, nei rapporti comunitari e sociali dalla misericordia. Certo per arrivare al diritto, alla giustizia, però partire dalla misericordia nella consapevolezza di essere stati perdonati. Allora cosa mi aspetto in quest'anno? Mi aspetto una maggiore attenzione alla parola di Dio, a una riflessione, a una meditazione e una parola di Dio che poi si apre alla celebrazione dei sacramenti, in modo particolare il sacramento della riconciliazione, la confessione, che sarà possibile nei luoghi anche deputati a questo anno giubilare, penso soprattutto ai santuari, a partire dalla cattedrale, ma poi il santuario di Monteberico, di Scaldafferro, di Chiampo e poi anche avere questi atteggiamenti di misericordia all'interno delle comunità ecclesiali, delle comunità civili e direi anche all'interno delle stesse nostre realtà familiari, del nostro paese, delle nostre parrocchie. E in questo senso allora io credo che potrebbe essere un anno di grande rinnovamento non solo della Chiesa ma anche della società civile. Ci vuole coraggio nel partire da questa realtà, da questa consapevolezza di essere perdonati e di perdonare. Come ci dice il Vangelo, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei sedi.